salve a tutti ben ritrovati a questa nuova edizione di chiasso news come sempre le nostre edizioni hanno qualcosa di particolare ma oggi ancor più perché perché il 22 giugno giovedì 22 giugno a montano lucino verrà proiettato un bellissimo documentario su julian assange e per questo ci siamo collegati con lorena corrias che è la responsabile del gruppo como for assange ho detto bene lorena sì tutto perfetto grazie giacomo grazie a te lorena per essere qua con noi e adesso tu ci darai tutti i particolari su questa serata ok allora ci tengo molto a questo documentario che ho visto l'anno scorso a lugano ed è un documentario che ha praticamente realizzato gabriel shipton che è il fratello di julian assange ha ricevuto già in molti paesi del mondo vari riconoscimenti sia negli stati uniti che in inghilterra in germania in australia eccetera e finalmente siamo orgogliosi di averlo portato in italia perché sarebbe già dovuto essere disponibile da dicembre dell'anno scorso però ci sono stati due festival del film che lo hanno rifiutato all'ultimo minuto perché doveva essere proiettato sia a roma che a torino e quindi c'è stato questo ritardo nel farlo arrivare da noi perché poi la produzione ha deciso e ha finalmente trovato un festival che lo accettasse infatti il 18 di giugno sarà trasmesso a bologna in anteprima diciamo c'era solo stata una preview a roma a dicembre giusto per tamponare il discorso che fosse stato escluso e quindi la serata di como sarà la prima in tutta italia a livello diciamo indipendente tolti i festival del cinema e quindi sono sono felice di questa cosa ho conosciuto personalmente la famiglia di julian assange sia john shipton che il padre che gabriel shipton che il produttore di questo docufilm e anche stella assange quindi vedendo il film ho veramente potuto notare quanto siano realistici nel nel documentario cioè praticamente si vede la loro vita di tutti i giorni da questi quattro anni tutte le battaglie legali che stanno affrontando e che cosa comporta nella loro vita il provare a cercare di aumentare la consapevolezza del caso di julian assange e quindi è importantissimo venire a vederlo per per questi motivi perché permette di entrare in empatia con la sua famiglia e quindi capire anche come come mai julian è così coraggioso ed è un grande idealista e vorrebbe un mondo molto diverso da quello che stiamo vivendo adesso ecco ecco lorena perdonami se ti interrompo ma sai che i nostri minutaggi sono abbastanza risicati eh il discorso eh diciamo poi su julian assange io ti direi non sbottonarti troppo perché tu sai che dopo il ventidue su chiasso tv ci sarà una bellissima serata in cui io farò solo l'operaio cioè terrò ferma la telecamera perché lorena corrias e benedicta faranno un eh dibattito tra di loro proprio sul caso di julian assange quindi non sbottoniamoci troppo concentriamoci su questa serata chi vuol chi volesse venire a a seguire questa questo bellissimo documentario eh cosa deve fare dove deve andare? Allora eh deve eh può scrivere un messaggio al numero più trentanove per l'Italia tre due otto settantasei ottanta quattro zero cinque oppure un'e-mail eh a Itacra scritto I-T-H-A-K-A Italia chiocciola proton punto mi eh tutto comunque è indicato nei nel volantino eh che magari spero potrai caricare. Noi metteremo metteremo in sovrimpressione certo. Ok ma la cosa fondamentale è che dopo aver visto questo documentario si collegherà dall'Australia il padre di Julian Assange John Shipton e quindi risponderà alle eventuali domande del pubblico e quindi questa è una è un'opportunità imperdibile ecco. Ecco quindi noi ricordiamo giovedì ventidue giugno duemilaventitré ore venti e trenta al cineteatro smeraldo di Montano Lucino. Ecco però non voglio lasciarti così ecco perché noi siamo anche curiosi di sapere come nasce il gruppo Como Fora Sanche. Allora eh ma ce lo devi dire. Ok allora io ho iniziato perché ho visto una ragazza tedesca di Berlino che si chiama Raya che è stata la mia ispiratrice che andava spesso una volta alla settimana in piazza a Berlino dove c'è la Brandenburger Tour eh e metteva per terra dello scoccio disegnando la la dimensione della cella in cui era inchiuso a Sanche da più di mille cinquecento giorni. Ho deciso che volevo imitarla volevo fare la stessa cosa in Italia perché mi sembrava un'idea grandiosa e quindi ho iniziato ad andare in piazza ad agosto dell'anno scorso a fare questa cosa e ehm quindi inizialmente ero io con mia mamma poi piano piano si è aggiunta un po' di si sono aggiunte molte persone poi sono entrata in contatto con un altro attivista che faceva la stessa cosa in Nuova Zelanda lui si chiama Matt o Brennan ogni volta sbaglio il suo cognome ma è grandioso lui dalla Nuova Zelanda si è trasferito in Europa e lui ogni giorno va in giro per il mondo con la tuta dei prigionieri di Guantanamo e quindi l'avevo invitato a Como e lui mi ha suggerito quest'idea fonda un gruppo cerca delle persone che ti seguono e così grazie a Matt abbiamo creato questo gruppo e grazie a tutto quello che fa poi adesso si trova a Lovondra e lui è veramente un grande. Ecco io vorrei ricordare ai nostri spettatori beh i nostri spettatori le sanno già certe cose perché eh abbiamo un livello di pubblico abbastanza abbastanza elevato però magari qualche nuovo spettatore che si fosse appena collegato eh abbia appena conosciuto Chiastro TV vogliamo ricordare che Giuliano Assange è una giornalista e eh lo vorrebbero vedere trepare in galera per il semplice fatto che ha pubblicato ha reso pubblico tra le tante cose un filmato in cui un elicottero statunitense militare ovviamente sparava su dei civili senza alcun ritegno questo questo filmato noi l'abbiamo già mostrato e ce l'hanno messo come vietato i minori va bene ci sta ok però eh ecco Giuliano Assange è eh un giornalista per chi non perché ci sono alcune persone che ancora oggi si chiedono chi sia Giuliano Assange e insomma io ogni volta che parliamo di questo ricordo sempre che eh basta guardare eh reporter senza frontiere l'elenco di giornalisti che vengono ammazzati regolarmente o imprigionati eh nell'arco di ogni anno ok cioè abbiamo grandi numeri eh dai seicento, settecento, ottocento, novecento, siamo a questi livelli no? Giuliano Assange eh chiaramente è un po' più difficile da far fuori perché ha toccato un tasto particolarmente eh importante anzi dire il vero lui ne ha toccati tantissimi di tasti ok e quindi lo verrebbe lo vorrebbero vedere la marcire in una cella eh a tempo indeterminato. detto questo cara Lorena eh speriamo che molti dei nostri spettatori vengano a vedere Itaca questo bellissimo documentario e noi ci aggiorniamo perché sarai ancora ospite su Chiasso TV con Beneditta Frelich per una serata molto 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 particolare. Grazie mille Giacomo per l'invito e per questa per questa diretta. Sai per noi giornalisti è un dovere quindi grazie a te e grazie al gruppo Como for Assange per questa edizione è tutto appena rivederci alla prossima edizione di Chiasso News. Grazie a tutti.